L'epidemia di coronavirus non ferma purtroppo la violenza sulle donne, che confinate fra le pareti domestiche rischiano di essere ancora più sole e alla mercè di individui violenti. Per questo la regione toscana, nel rispetto delle restrizioni per contenere la diffusione del virus, ha deciso di garantire la continuità del servizio dei centri antiviolenza attraverso una rete di ascolto telefonico ancora più capillare e rilanciando la campagna per la diffusione del numero antiviolenza 1522. I centri antiviolenza hanno gli sportelli chiusi, è vero, ma hanno intensificato altre forme di comunicazione. Potete chiamare al telefono, ci sono tanti numeri di cellulare, potete mandare un messaggio whatsapp o anche facebook e ugualmente anche all'1522. l'1522 è sempre attivo, ha addirittura realizzato un'app e attraverso l'app è possibile chattare con le operatrici. Allora il nostro invito è quello di non rimanere in silenzio. Se si è vittima di violenza, chiamare, scrivere perché la rete di protezione è sempre attiva. Le donne possono quindi scaricare gratuitamente l'app del 1522 sul proprio telefono e chattare senza che nessuno le ascolti con le operatrici del servizio.